Musica Camion divorato dalle fiamme a Iese, morto carbonizzato, l'autista quarantenne rimasto intrappolato nell'abitacolo. Bracciali, anelli e orecchini non sicuri a Senigallia, sequestrati 10.000 articoli per un valore di oltre 50.000 euro. Ponte del 2 giugno, in viaggio 13 milioni di italiani, stop al Green Pass per i turisti stranieri che arrivano in Italia, Fano diventa sempre più la meta preferita degli svizzeri. In zona, mare, matrimoni, un po' di feste insomma qui nei dintorni. Quindi un po' di tutto. Sì, un po' di tutto. Richiamano la pace e la gioia le opere realizzate dagli studenti di Nolfi e Apolloni che hanno colorato due rotatorie della città di Fano. Gimastica ritmica, riflettori accesi sulla Vitrifrigo Arena. Dal 3 al 5 giugno torna la World Cup con 140 atlete nell'astronave finalmente a capienza piena. Alice Pagliarini vola ai giochi sportivi studenteschi e conquista la medaglia d'oro nei 100 metri. Medaglia di bronzo per il fratello Francesco. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Benvenuti al nostro telegiornale. In apertura l'incidente mortale sul lavoro accaduto ieri sera a Iesi, poco dopo le ore 22. Massimo Vido, 40 anni, autista di un auto articolato, è rimasto ucciso nell'incendio che ha coinvolto il mezzo dopo aver urtato, per cause ancora da chiarire, un pilone del sottopasso della linea ferroviaria Ancona-Roma. A dare l'allarme sono stati alcuni residenti che hanno sentito un forte buato provenire dal sottopasso e le grida dell'uomo rimasto imprigionato nell'abitacolo del Camin che conteneva componenti di trattori. Il quarantenne era partito da Potenza per consegnare la merce in uno stabilimento iesino. Sul posto due squadre dei Vigili del Fuoco che hanno spento il rogo e messo in sicurezza l'area dell'intervento, la polizia stradale di Ancona, i vigili urbani di Iesi e i sanitari del 118. Per l'autista, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. Il traffico ferroviario ha subito rallentamenti, chiusa anche l'uscita di Iesi Ovest della superstrada per evitare l'ingresso di veicoli nel sottopasso che potrebbe aver subito delle lesioni. Questa mattina il personale di RFI e il comune di Iesi hanno effettuato delle verifiche al ponte. La Guardia di Finanza di Senigallia, invece, ha sottoposto a sequestro più di 10.000 articoli di bigiotteria per una valore di oltre 50.000 euro. La merce, tra cui anelli, bracciali e orecchini, era messa in vendita da un commerciante di origine bengalese in un centro commerciale di Senigallia. Le Fiamme Gialle hanno scoperto che gli articoli erano privi delle informazioni previste dalla legge sulla composizione dei prodotti e sui materiali utilizzati, con i conseguenti pericoli per la salute umana, legati all'eventuale presenza di allergeni o componenti potenzialmente pericolosi. Al termine dell'attività, i finanzieri hanno segnalato il responsabile alla Camera di Commercio delle Marche per la successiva sanzione che va da 516 ad oltre 25.000 euro. E adesso andiamo avanti perché tra domani e domenica 5 giugno, complice il gran caldo, saranno milioni gli italiani che si metteranno in viaggio. A Fano si registrano presenze di svizzeri, olandesi e tedeschi, ma c'è grande ottimismo anche per il turismo sportivo. Circa 13 milioni di italiani in viaggio per il Ponte del 2 giugno è quanto emerge da un'indagine della Federa Berghi, secondo la quale più dell'87% resterà in Italia. Mare, montagna, parchi, città d'arte e bellezze naturali, le destinazioni prescelte. Chi invece si recherà all'estero, sceglierà le grandi capitali europee o un viaggio in crociera. Dopo due anni di pandemia riparte quindi anche il settore del turismo e non solo grazie alle previsioni del tempo. Da oggi, infatti, non serve più il Green Pass per gli stranieri che arrivano nel nostro paese. Cecchini, come si prospetta questa settimana anche in vista delle festività? Abbiamo un ponte eccezionale, giovedì, venerdì, sabato e domenica, veramente bellissimo a livello turistico. Noi siamo sempre legati al meteo, il meteo questa volta ha detto che avremo buon tempo e la gente sta arrivando. discrete pronotazioni, anzi ti dirò molte richieste e naturalmente il last minute è quello che predilige tutto l'andazio. Ci sono anche persone che vengono dall'estero? Sì, abbiamo gli svizzeri, olandesi, tedeschi. Gli svizzeri che erano anni che mancavano nelle nostre zone, ne abbiamo intervistati, come si vuol dire, che diamo a loro, loro dicono che hanno un potere d'acquisto non indifferente e naturalmente fanno piace, piace. E anche il passaparola degli svizzeri, perché parecchi fanesi che lavoravano là hanno detto che fanno una città bellissima, tranquilla, è quello che predilige la gente, avere una città tranquilla. e naturalmente anche con gli stranieri stiamo facendo un ragionamento. Stranieri che vengono ad Ancona a imbarcarci per la Grecia, abbiamo fatto un accordo con delle agenzie che si fermano qui a Fano e stanno uno o due giorni, perché hanno delle mete ben precise, come Urbino, Mondavio, Pergola, per visitare dei posti unici. Dunque, anche l'entroterra è tra le mete preferite, ad attirare turisti, però sono pure gli eventi organizzati sia nelle spiagge, sia in diversi luoghi della città. Infatti, per le prossime settimane, stanno già arrivando molte prenotazioni grazie alle gare di bowling, di pallavolo e di tiro a volo. C'è grande attesa anche per l'Adriatica Ionica Race, la corsa ciclistica professionale che per la quarta tappa, martedì 7 giugno, vedrà partire da Fano alla Carovana, alla volta della riviera del Conero. Avete iniziato a collaborare anche con altre città, ad esempio Modena? A Modena e Parma sta chiedendo molto gli itinerari della bellezza e lì abbiamo fatto un bel accordo perché è diventato tipo il libro del touring. Aspettiamo adesso gli itinerari del silenzio che anche quello varranno alla grande. Quello che ci penalizza è un po' il traffico su gomme perché l'ANA sta facendo i lavori nel nostro entroterra e un po' ci sta penalizzando. Però siamo fiduciosi che ci hanno garantito che cercano di darci spazio il venerdì, sabato e domenica per far passare bene l'autovettura. E adesso sentiamo invece che cosa faranno i fanesi. Con questo lungo ponte del 2 di giugno non ne approfitterà per andare da qualche parte o rimarrà qua in zona? In zona, mare, matrimoni, un po' di feste insomma qui nei dintorni. Quindi un po' tutto? Sì, un po' di tutto. Soprattutto il matrimonio domani ce l'ha? No, il matrimonio domenica, domani mare. Sì, se il tempo permette è un po' di relax che ci vuole. Poi dopo tutto il periodo scolastico, burocrazia di fine anno, basta, un po' di riposo. Non ho ancora organizzato niente. Hai visto le belle giornate di sole? Si può andare a fare anche un giretto al mare. Ma quello sempre, tutti i giorni. All'ombrellone oppure? Ombrellone, ombrellone. È comodo se stai qua. Forse vado al mare se c'è bel tempo. Tu sei di Fano? Sì, sì. Con gli amici? Sì, sì. Al mare andrò con gli amici, molto probabilmente. Siamo austriache. Quindi passerete qua dei giorni per vacanza? Sì, sì. Vi piacciono queste zone? Molto. Io purtroppo devo studiare, ho l'esame. Che classe fai? La quinta? Quinta, sì. Qui a Fano? Sì, faccio quinta al liceo di scienze umane. Quindi un weekend di studio? Sì. Non andrai neanche al mare? Penso di no, però se riesco, volentieri. Ci vuole. I miei programmi sono lavorare, perché domani siamo aperti e quindi niente, adesso stasera penso di stare in girata nel Fanese o nei dintorni. Invece si va a ballare o no? Si va a ballare, ci sono parecchie feste, parecchi eventi, soprattutto zona Lido. Un giro sicuramente si fa, si fa. Vado a Firenze. Quanti giorni stai? Solo domani. Come mai questa gita giornaliera? Perché me l'ha regalata le mie migliori amiche per il mio compleanno. Un bel regalo. Un bel regalo, sì. Tu invece? Sera vado in discoteca, quindi domani penso che andrò a fare un po' di shopping per l'estate. I prossimi giorni? Mare? Sì, mare da sabato fino a mare. L'ombrellone? Sì. Io domani penso mare, la mattina, poi dopo devo andare a far le trecce, rivedere un attimo il look. Tra l'altro domani e dopo domani, ultimo giorno di scuola? Ultimo giorno di scuola, sabato. Voi avete gli esami, no? No, no, no. Quindi proprio festa fino a settembre? Sì. Sto già lavorando, quindi... Quindi hai tutta la giornata impegnata, quindi si lavora e basta? Praticamente sì. Ovviamente pomeriggio al mare, quando si riesce, sperando che non faccia troppo caldo. Invece le vacanze quando le farai? Probabilmente a fine agosto, ci avrò due settimane libere e ho un prospetto di fare un viaggio. Dove? In Calabria. Dove mai? In Calabria? Perché ho la mia ragazza lì, quindi vado a trovarla, andiamo al mare. Stasera si esce e domani giornatona o al mare o in campagna o in giro. Dove andate stasera? Eh, di Ido, centro, più o meno. Quindi rimanete comunque qua per Fano? Oppure a San Lazzaro, dipende. Sì, comunque Fano. E a ballare invece ci si va in questo periodo oppure no? In questo periodo un po' di meno. Sì, è caldo, quindi evitiamo, stiamo all'aperto. Perché sono chiuse. Sì. Correndo via Papiria in direzione Ancona, cioè in senso contrario a quello stabilito. La donna, che è rimasta ferita, è stata soccorsa dai sanitari. Sul posto anche i vigili urbani per i rilievi di legge. La polizia locale ricorda che le piste ciclabili, se non è indicato diversamente, hanno lo stesso senso di marcia previsto per le auto e per tutti i veicoli a motori. Da oggi torna in vigore la sosta a pagamento sul lungomare di Fano. Aset e il Comune fanno sapere che chi risiede in Viale Spontini, Viale Cairoli e Viale Adriatico avrà due diverse soluzioni in base alle esigenze. Infatti possono ottenere, previa richiesta in bolla annuale dal costo di 16 euro, un contrassegno gratuito che permette alle auto di poter sostare senza pagare il ticket negli stalli blu di Viale Adriatico, Viale Spontini e Viale Cairoli dalle 19 alle 8.30 della mattina successiva e nella pausa pranzo esponendo il contrassegno. Negli altri orari questa misura non è valida. Inoltre possono richiedere ad Aset la possibilità di sottoscrivere un abbonamento stagionale dal costo di 30 euro applicabile per un'auto a nucleo familiare che può essere parcheggiata nelle stesse vie H24. Invece gli operatori della pesca possono sostare gratuitamente nei parcheggi a pagamento posti di fronte al porto fino alle 9 di mattina. Rimaniamo a Fano perché gli studenti del liceo artistico a Polloni hanno colorato due rotatorie lasciando libero sfogo alla fantasia e al proprio talento. Con le loro opere i ragazzi hanno voluto lanciare un messaggio di pace e di rinascita. Filippo Pucci Sicuramente qualcuno li avrà notati indaffarati ma anche pieni di spirito di lavoro. I ragazzi dell'istituto Nolfi a Polloni di Fano impegnati questi giorni nell'abbellimento e riqualificazione di due rotatorie molto frequentate dagli automobilisti fanesi e non solo. Stiamo parlando della rotonda davanti alla stazione ferroviaria e quella nella zona del Cavalca Ferrovia in Viale Cesare Battisti. I due rondò che mostravano già da anni i segni dell'usura e del tempo da oggi riavranno nuova vita grazie alla maestria degli alunni della nostra città, coordinati dal professore di scenografie Giorgio Cassoni. Una rotatoria è quella davanti alla stazione di Fano in cui è raffigurato un ingrandimento di un'opera di Matisse del 1949 che si chiama Colombe nel cielo e quella vicino al Cavalca Ferrovia in Viale Cesare Battisti. È una nostra rivisitazione della sua tecnica per quanto riguarda l'utilizzo del colore che abbiamo deciso di nominare il Proto Fiorito. Queste due rotatorie hanno un forte richiamo alla pace e alla gioia e abbiamo notato come la natura attraverso regole ben precise e prestabilite riesca a dare vita e elementi come i fiori che trasmettono un sacco di emozioni positive. E di conseguenza noi a nostra volta volevamo trasmettere emozioni positive a chi le osservasse. Nella rotatoria alle mie spalle insieme ad altri miei tre compagni di classe abbiamo prima squadrato lo spazio, poi abbiamo disegnato con delle dime i soggetti che sarebbero andati dipinti. In seguito abbiamo dato il colore di fondo e per finire abbiamo disegnato, abbiamo dipinto le Colombe nel cielo. Smalto assolvente che è praticamente lo stesso che si usa per gli sparti traffico in modo da rendere il colore più legato possibile alla superficie sulla quale abbiamo dipinto. A finanziare il progetto l'amministrazione comunale che crede fortemente nella laboriosità dei ragazzi delle scuole di Fano. Questo progetto è uno dei tanti messi a cantiere dal comune che vedrà presto il coinvolgimento di vari istituti in altri luoghi della città. Sono protagonisti della città, trasferiranno la loro arte proprio per promuovere l'arte, proprio perché riprodurranno un'opera di Arimatis, due opere che appunto il pittore mise a disposizione in una fase terminale della sua vita, quindi durante la malattia, con uno schema di colore completamente nuovo. Questo messaggio augurale per la città, anzi due. La prima, quella verso la stazione, vuole essere un messaggio augurale di pace proprio perché rappresenta un cielo di Colombe. E quella invece sul cavalcavia di Viale Battisti è un giardino fiorito che in questo caso è indice di ripartenza. Oltre 11 milioni di euro in arrivo per l'Istituto Agrario Cecchi di Pesaro e il Liceo Artistico Scuola del Libro di Urbino. Lo rende noto il presidente della provincia, Giuseppe Paolini, uscito dall'incontro ottenuto a Roma dal commissario straordinario alla ricostruzione Giovanni Legnini. In particolare la provincia ha ottenuto circa 6 milioni e mezzo per la riparazione dei danni conseguenti al terremoto del 2016 con adeguamento sismico dell'edificio principale per il Cecchi di Pesaro e quasi 5 milioni per la riparazione con adeguamento sismico della sede in via Bramante della Scuola del Libro. Cambiamo argomento e passiamo alla seconda edizione della Residenza per Artisti denominata L'Idola Fortuna. Le opere incentrate su due mezzi tradizionali come la pittura e la fotografia verranno presentate a partire da agosto a Fano, Pergola e Milano. Abissato successo della prima edizione con l'ottimo riscontro di critiche e di pubblico, la Residenza d'Artista L'Idola Fortuna, il progetto di durata triennale, mira a promuovere e sostenere il lavoro di giovani artisti invitati a confrontarsi con le peculiarità artistiche, culturali e paesaggistiche del territorio marchigiano. L'evento, ospitato a Fano dal 16 al 29 maggio, è stato curato da Caterina Angelucci e Luca Zuccala che hanno selezionato quattro tra i migliori talenti del panorama nazionale e internazionale che si sono distinti per la qualità del proprio linguaggio nell'ultimo decennio. Sabato scorso, a conclusione del periodo di permanenza, il piano nobile di Palazzo Montevecchio è stato aperto al pubblico che ha potuto incontrare gli artisti e vedere i lavori realizzati. Chi sono gli artisti selezionati e quali sono i temi al centro di questa seconda edizione? Allora, gli artisti selezionati quest'anno sono Andrea Martinucci, classe 1991, che vive tra Roma e Milano, Nicolo Cecchella, classe 1985, vive tra Reggio Emilia e Roma, Caterina Ricascianta, 1986, viene da Torino e Davide Serpetti, che vive tra L'Aquila e Los Angeles, 1990. I film di quest'anno ricalcano quelli dell'anno scorso ma naturalmente sono filtrati attraverso le personalità e le ricerche di questi artisti, a cui nella mostra finale di restituzione che si svolgerà a Fano ad agosto si uniranno altri tre personalità artistiche che sono i tre pittori invitati nella prima edizione, quindi Sophie Westerling, Oscar Contra Erastroias e Jing e Dong, a cui si uniranno a loro volta Danny Avidan, appunto lui è nato in Jamaica, ha vissuto in Israele e è cresciuto a Berlino, che ha scelto come luogo di elezione per il suo lavoro Le Marche, la provincia di Pesaro Urbino, e infine Silva Mariotti, artista appunto con un background internazionale ma che viene da Fano. E qual è l'obiettivo del progetto? L'obiettivo del progetto è portare l'arte contemporanea Under 35, quindi artisti emergenti ma con un background già affermato a livello internazionale nella nostra provincia, perché appunto sia io che Luca Zuccala riteniamo che Fano sia capace di poter accogliere questo tipo di novità. In fondo la residenza d'artista Lido La Fortuna, promossa dall'associazione Lido Contemporaneo in collaborazione con il Comune di Fano, è una novità per il nostro territorio e sicuramente è un modo per intestare un dialogo con quelli che sono i centri della contemporaneità, quindi Milano, Torino, Roma e portare insomma in luce il nostro territorio. Il risultato della residenza sarà presentato nel corso di tre esposizioni che si terranno nei prossimi mesi a Fano, Pergola e Milano. Lo scorso anno è stato un grande successo, grande partecipazione, artisti molto bravi, ma quello che è bello, il valore che porta è questo ritrovo di giovani che poi contaminano e c'è la presenza e la partecipazione di tanti altri soggetti che sperimentano, valorizzano il nostro territorio, artisti che dialogano con la nostra storia, con le nostre emozioni, i nostri sentimenti, con il nostro ambiente, la nostra natura, il mare e tutto questo poi si riproduce in una mostra che verrà proposta nel mese di agosto e devo dire anche l'incontro con gli artisti dei giorni scorsi, è stato un momento di grande partecipazione di tantissimi giovani e anche tanta gente non solo di Fano, questa è la dimostrazione che la cultura ha un grande potenziale Fano si sta caratterizzando sempre più, anche per l'arte contemporanea, sicuramente a livello regionale. È bastata una partita determinante per la permanenza in Serie D per attirare allo Stadio Mancini quasi mille persone è il commento del club Forza Alma che ha sottolineato quanto Fano abbia fame e voglia di calcio questo, si legge in una nota, dovrebbe bastare a qualche volenteroso, serio, appassionato di sport, imprenditore fanese a farsi avanti siamo certi che a quel punto un progetto proporzionato alla realtà, basato sui giovani, su figure competenti, sulla fanesitudine e sulla volontà di riportare Fano nel calcio che conta, sarebbe apprezzato da tutti amministrazione in primis che tanto ha latitato ultimamente, prosegue la nota il club auspica un cambio deciso e il pubblico di domenica hanno concluso è la base per far tornare Fano dove merita dal calcio alla ginnastica ritmica con la World Cup che torna a Pesolo dal 3 al 5 giugno attese in pedana 140 ginnasse, tra cui atlete ucraine 32 nazioni, 140 ginnaste e 300 componenti delle delegazioni sono alcuni dei numeri della World Cup di ginnastica ritmica che si terrà alla Vitre Frigo Arena dal 3 al 5 giugno dopo l'evento annullato nel 2020 e quello dello scorso anno che si è svolto senza pubblico la tredicesima edizione vedrà l'astronave di Pesolo a capienza piena a difendere i colori azzurri le farfalle Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean e Laura Paris Alessia Maurelli, capitana e Martina Sant'Andrea tra le individualiste invece saranno protagoniste le marchigiane Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri della società ginnastica Fabriano in pedana le nazioni più forti al mondo, dall'Italia alla Bulgaria fino a Cina, Giappone, Arzerbaijan e Ucraina proprio la tappa italiana sarà l'unica edizione 2022 della World Cup a cui parteciperà la squadra ucraina a causa del conflitto in corso loro ho visto che non sono riusciti ad andare in nessun'altra coppa si sono sempre iscritti ma poi si sono cancellati per tanti problemi ovviamente e qui invece abbiamo fatto di tutto per farli venire sarà un viaggio molto lungo perché prenderanno il pullman da Kiev a Varsavia sono 12, 13, 14 ore di viaggio e poi a Varsavia prenderanno l'aereo e quindi speriamo che tutto vada bene e che arrivino domani purtroppo non ci sarà né Russia né Bielorussia questo ci dispiace molto perché sono due nazioni molto importanti nella ginnastica ritmica e molto interessanti noi non abbiamo divisioni, ci dispiace molto siamo in contatto anche con loro ma purtroppo questa è la realtà Pesaro oltre ad essere la tappa conclusiva del circuito della World Cup è anche quella con il maggior numero di squadre e ginnaste partecipanti sarà un grande spettacolo ha poi aggiunto Paola Porfiri che verrà visto da tantissime persone in tutta Italia contribuendo a diffondere questo sport e a promuovere il nostro territorio molto interessante perché andiamo a raccogliere quello che è successo nella ritmica negli ultimi tre mesi e per fortuna per quello che ci riguarda sono successe solo cose buone siamo avanti dappertutto sia nell'individuale con la Raffaelli sia nella squadra e quindi bene così ci sono tante nazioni ma l'Italia in questo momento anche dovuto al fatto della guerra e quindi della mancanza della Russia per già dirlo della Bielorussia chiaramente abbiamo un vantaggio però con la squadra come sta andando in questi ultimi tempi penso che non ce ne sarebbe stato per nessuno insomma fino ad oggi perlomeno è così speriamo che continui così anche nei prossimi dieci giorni le finali di domenica verranno trasmesse in diretta dalla 7 mentre le giornate di venerdì 3 e sabato 4 potranno essere seguite in streaming sul canale YouTube della Federazione Ginnastica d'Italia il programma completo invece può essere consultato anche sul nostro sito occhioalanotizia.it la città, la vitrifrigo arena, insomma si confermano veramente il polo centrale in cui la ginnastica ritmica ha trovato casa e dove dà il meglio di sé è un indotto importante anche sotto il profilo turistico non solo per i numeri che si fanno in città ma per la promozione che un evento di questo genere ci ha i biglietti per i tre giorni della manifestazione possono essere acquistati sia online sia negli uffici della vitrifrigo arena la regione è sempre dalla parte del mondo dello sport del mondo dei giovani anche di tutto ciò che ruota attorno a manifestazioni del genere come il turismo, le persone che visitano la città e danno risalto e lustro alla nostra regione Marche quindi molto bene, in bocca al lupo a tutti i partecipanti e agli organizzatori Alice Pagliarini si è laureata campionessa italiana ai giochi sportivi studenteschi che si sono svolti a Pescara da lunedì scorso ad oggi, medaglia d'oro dunque per la giovane fanese che ha conquistato il primo posto nei 100 metri con il tempo di 11.83 Alice si è così qualificata ai campionati europei di Gerusalemme che si terranno in Israele dal 4 al 7 luglio ai quali parteciperà insieme alla nazionale italiana suo fratello Francesco invece che ha gareggiato in una categoria superiore alla sua ovvero quella degli under 18 è arrivato terzo nei 100 metri con il tempo di 11.17 dopo aver corso in batteria insieme alla sua squadra risultati strabilianti per la sua fascia d'età che gli hanno permesso di qualificarsi nella lista dei giochi europei giovanili in Slovacchia insieme alla sorella Alice congratulazione e in bocca al lupo per il vostro futuro noi tra poco trasmetteremo uno speciale sulla città da giocare l'iniziativa dedicata ai bambini che si è svolta domenica scorsa a Fano l'appuntamento con l'informazione torna domani mattina alle 7 insieme al direttore Marco Ferri arrivederci grazie